In particolare ci riunisce il tema Nutrire il pianeta, energia per la vita. Anche di questo dobbiamo ringraziare il Signore per la scelta di un tema così importante, così essenziale, purché non resti solo un tema, purché sia sempre accompagnato dalla coscienza dei volti. I volti di milioni di persone che oggi hanno fame, che oggi non mangeranno in modo degno di un essere umano. Vorrei che oggi ogni persona che passerà a visitare l'Expo di Milano attraversando quei maravigliosi padiglioni possa percepire la presenza di quei volti, una presenza nascosta, ma che in realtà deve essere la vera protagonista dell'evento. I volti degli uomini e delle donne che hanno fame e che si ammalano e persino muoiono per un'alimentazione troppo carente o nociva.